Federico, innanzitutto come stai e perché hai avuto qualche problemino? Sì, ho un problema al polpaccio, oggi spero di capire realmente, facciamo delle visite, a cosa vado in conto, un fastidio, spero niente di grave, però non riesco ancora a correre e niente, spero di rientrare il prima possibile. Quindi non sarai comunque a disposizione per la Serenitana? Non lo so, dipende oggi cosa mi dicono dalle visite e poi da lì riusciamo a capire i tempi e l'entità del problema. Come state preparando questa gara? Atipica, perché l'Ascoli non gioca dal 26 gennaio, sia per quello che è successo a Lecce che per il turno di riposo. Ieri il direttore sportivo Tesoro diceva che bisognerà essere bravi a riattaccare subito la spina. Sì, diciamo che il problema principale per noi è quello che hai detto te, bisogna essere bravi ad approcciare una partita già difficilissima per conto suo, perché affrontiamo una Serenitana che viene a dare un risultato negativo e che vuole venire qua a fare punti. In più veniamo da un paio di settimane che non abbiamo il ritmo gara, non abbiamo comunque quell'adrenalina che ci manca da un po'. Bisogna essere subito bravi a riprendercela, a riattivarla il prima possibile perché sarà una partita tosta. Hai avuto delle richieste nel calcio mercato invernale, poi però alla resa dei conti sei rimasto ad Ascoli, il DS Tesoro ha detto siamo contenti così. Sì, c'è stata qualche chiacchierata con qualche squadra, però non era quello che cercavo io, non era quello che ho in mente. Sono contento di essere rimasto, sono veramente contento perché qua ho trovato comunque un gruppo fantastico, una realtà bellissima. Spero di dare il mio contributo fino alla fine dell'anno, poi vedremo il futuro. Come stai vedendo i nuovi ragazzi, in particolare i Niguez, che è un nuovo centrocampista, quindi un nuovo compagno che dà una mano lì in mezzo, aumenta anche la concorrenza? Sono sincero, non ho avuto la possibilità di vedere perché appunto sono rimasto fuori in queste due settimane qua, però ho avuto compagni che me ne hanno parlato molto bene, sono ragazzi seri, sono ragazzi che sono venuti qua per darci una grossa mano e che hanno voglia di mettersi a disposizione. Credo che questa sia la cosa più importante e alla base di tutto per fare un ottimo giorno di ritorno. Siamo in tredicesima posizione con 25 punti, a meno 5 dai play-off e a più 5 dai play-out. E' questo quello che meritiamo? La classifica è particolare, è in divenire? Bisogna guardarsi più alle spalle o davanti? Io dico sempre che la classifica rispecchia la squadra, nel senso che non bisogna reclamare, non bisogna comunque chiedere di più. Se abbiamo questi punti vuol dire che li meritiamo. È normale che volevamo fare di più, è normale che andiamo in campo insieme per vincere e per ottenere il massimo. Questo credo che debba essere la base per ogni partita. Ma paura non bisogna averne, bisogna andare in campo per fare punti, per andare il più lontano possibile. Poi, come ho detto prima, dire al campo cosa sappiamo fare e cosa non sappiamo fare. È normale che, come diciamo da un po', prima raggiungiamo una quota importante per la salvezza e prima poi riusciremo a cercare di ottenere anche qualcosa in più. L'ultima, parliamo della salernitana. Loro hanno perso malamente il derby campano con il Benevento. C'è tanta tensione a Salerno, i tifosi non sono contenti. Però tu sei un ragazzo di esperienza e sai bene che queste partite non si possono sottovalutare, anche perché hanno un organico di grande valore. Sì, no, assolutamente. Sono partite che, anzi, sono diciamo le più pericolose perché loro vengono qui, come ho detto prima, per fare punti. Devono assolutamente dimostrare che la partita in casa col Benevento è stata solo un caso e quindi verranno qui agguerriti e pronti per una battaglia. Noi saremo pronti comunque e spero che saremo più pronti di loro per ottenere questi tre punti che diciamo che da un po' che ci mancano e ne abbiamo proprio bisogno. Dispiace per lo sciopero degli Ultras. Sarà un del Duca contro la serenitana in silenzio? È ovvio che è un dispiacere grosso per tutta la squadra e per come sono i nostri tifosi in casa e anche fuori, logicamente, è una perdita grande. Però capiamo anche loro e capiamo il motivo per cui lo fanno, quindi sarà una partita particolare e speriamo di regalargli lo stesso tre punti. Grazie a tutti.